Il mio nuovo progetto discografico nasce in seguito delle esperienze artistiche che ho fatto nell'area berlinese, dove ho incontrato Andrea Marcelli, io, Anne Sphinck e Eckhard Volk, con i quali, grazie alla Now Records, sono entrato in studio per fissare questo nuovo materiale che ho scritto, nel quale musica classica, swing, tradizione, blues, improvvisazione totale si compongono, scompongono, miscelano per creare qualcosa di nuovo all'interno del mio linguaggio. Grazie a tutti!